Casse vuote al Comune di Benevento, la Corte dei Conti fa chiarezza e promuove la linea sin cui seguita dall'esecutivo Mastella. Lo rende noto Luigi De Nigris, capogruppo di Noi Sanniti. La dichiarazione di dissesto non poteva essere evitata, così come al contrario sempre sostenuto dall'ex sindaco Fausto Pepe e una volta predisposto il piano di rientro, i debiti fuori bilancio formatisi prima non possono essere aggiunti in corso d'opera. Tecnicismi contabili per dire che se un debito è maturato nel 2013 e tu lo ignori in un piano di rientro nel 2014 poi non puoi più aggiungerlo perché a quel punto rendi mendaci tutti i bilanci successivi. In pratica se l'esecutivo Pepe non avesse aggirato molti ostacoli e la dichiarazione di dissesto fosse stata avanzata prima dell'elezione di Mastella un peso politico ritenuto eccessivo dal centro-sinistra in quei mesi, ai cittadini di Benevento sarebbero toccate meno tasse. A questo punto a Palazzo Mostri si trovano di fronte ad un bivio, mettere mano ad una manovra finanziaria fatta di lacrime e sangue che porterebbe la lotta all'evasione ad un livello massimo di recupero, facendo pagare ai cittadini di Benevento scelte politiche sbagliate. Oppure studiare sistemi meno oppressivi, maggiormente diluiti nel tempo, ma avendo bene in mente che il limite massimo per rientrare dal debito l'ultima valutazione parla di 119 milioni di euro e di 10 anni.